Chi può dare ai tuoi capelli un colore fino al 30% più luminoso? Viva Color D'Avella! La prima colorazione permanente con Color Vitalizer che ristruttura i capelli per un colore fino al 30% più luminoso. Un rosso così intenso è solo Viva Color Granatina. Viva Color D'Avella! Vivi i colori!